. Royal Canin, mini puppy. Studiato per sostenere l'elevato fa bisogno energetico dei cuccioli di razze piccole, durante il loro breve, e, intenso periodo di sviluppo. . Il Sideal Balance, con pollo, e riso integrale. Fornisce gli ingredienti naturali, perfettamente bilanciati, per la crescita dei cuccioli. Bozzita, madre, e cucciolo. Cibo adeguato alle esigenze nutrizionali dei cuccioli e cani giovani, delle cagni in gravidanza o in allattamento. Cristoferus, cuccioli e cani giovani. Materie prime accuratamente selezionate, assicurano ai cuccioli di tutte le razze un'alimentazione ottimale, e, facilmente digeribile. Purina Pro Plan Small & Mini Puppy. Appositamente sviluppato per soddisfare le esigenze dei cuccioli di piccola taglia, con problemi alla cute. Happy Dog Supreme Young Baby senza cereali. Alimento altamente digeribile e ben bilanciato, per cuccioli particolarmente sensibile, dall'età di 4 settimane. Per ottenere ulteriori vantaggi, iscriviti al nostro canale, e scarica la nostra applicazione.